Vi presento, cantatore e poeta, Piero Ciampi. Una regina come te in questa casa. Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono? Le undici. Io fra... guarda, fra cinque ore sono qua e c'è una casa con quattordici stanzi. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono due centi che hai addosso, ma che? Ma fammi capire, ma se... ma io, ma come tu sei la... sei la mia. E stiamo in questa stamberga, due centi addosso. Ma io adesso esco, sai che cosa faccio? Ma io ti porto un... una pelliccia di leone... con l'innesto di una tigre. Te lo faccio vedere chi si può dire. Senti, intanto però c'è un problema. Siccome devo uscire, mi puoi dare mille lire per il tassino? In modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me. Lascia fare a me. Lascia fare a me perché... ti rifiutti. Ma che cosa ti avevo detto una casa? Ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino. Perché? Se qui davanti a casa nostra quelli ci hanno la barca e rompono le scatole. Io ti compro un sottomarino. Così, sai, li fai ridere tutti questi. Capito? Intanto facciamo una cosa. Io ti sono qua. Tu metti la pentola sul fuoco. Ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco. Poi ci fichiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io. Ti sgambaro. Te lo faccio vedere chi sono io. Te lo faccio vedere chi sono io. Sono un uomo a sociale ma sono un uomo che ti... Io non ti compro il sottomarino ti compro un transatlantico. Passa che tu non scappi. Stai attento che... se scappi col transatlantico ti ha fuoco nel... nell'oceano paesino. Dai, dai, torri, capivai che ci sgaggano? Lo faccio vedere chi sono io. Sì, dai. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Grazie a tutti.